Monta la protesta del governo regionale abruzzese nei confronti del Ministero dell'Interno e più in generale della politica di accoglienza dei migranti dell'esecutivo Conte. I casi di Moscufo prima, dove sono risultati positivi al Covid-19, 7 migranti su 50 accolti nel CAS e di Gisi poi, dove ieri i migranti positivi sono stati 16 tra i 50 accolti nell'ex hotel Santa Lucia, scatenano la polemica nei confronti della gestione dei flussi e della ridistribuzione sul territorio nazionale di coloro che dall'Africa subsahariana approdano sulle coste italiane. Sia il presidente della giunta regionale Marsilio che l'assessore alla sanità Veri criticano senza mezzi termini il governo nazionale per quello che definiscono un atteggiamento dai responsabili. Sotto accusa anche il fatto che al momento dello sbarco non vengano effettuati i tamponi ma solo i test sierologici. Il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri rimarca la posizione della maggioranza di centrodestra. Il 7 a Moscufo, 16 a Gisi, 3 l'altro giorno altrove in un altro CAS. Insomma, cioè comprenderete che la popolazione non comprende questo fatto e aggravare l'ulteriore preoccupazione che si possa di nuovo rimuovere il virus in maniera contagiosa non fa bene a nessuno. Intanto questa mattina nella prefettura di Chieti si è svolto un vertice per fare il punto della situazione rispetto ai contagi registrati tra i migranti ospitati a Gisi. Il sindaco di Gisi, Agostino Chieffo, non nasconde il proprio disappunto per quanto accaduto, anche se, così come è accaduto a Moscufo e a Pettorano sul Gizio, i migranti sono isolati e controllati dalle forze dell'ordine. I sindaci hanno il polso della situazione, conoscono le realtà locali sicuramente più del prefetto e più del governo nazionale. In realtà noi non veniamo minimamente presi in considerazione e fungiamo solo da palafulmini poi nei confronti della cittadinanza che ovviamente poi si scaglia nei nostri confronti come se noi avessimo partecipato fattivamente al trasferimento di questi ragazzi. Sentiamo cosa dice il prefetto, io gli manifesterò di nuovo tutto il mio disappunto sulla gestione della vicenda e chiederò il trasferimento degli ospiti della struttura presso altre strutture più idonee a garantire la sicurezza in questo periodo di quarantena. A Moscufo, intanto, buona notizia perché i tamponi effettuati sui sei operatori del centro di accoglienza sono risultati negativi.